A Roma, Big Blue, il salone della nautica dedicato alle imbarcazioni a motore, un'anteprima mondiale per i diportisti in cerca della barca dei sogni, in rassegna dei mega yacht che ricordano i loft new yorkesi. Antonio Scopettuolo. Giunto al sesto anno consecutivo, Big Blue ritorna alla fiera di Roma con oltre 600 aziende nautiche e 800 imbarcazioni provenienti da tutta Europa, un viaggio intorno al pianeta azzurro, tra battelli preomatici, yacht di lusso e barchi a vela, ma anche piccole imbarcazioni per ogni budget. Un giro di affari, quello della nautica italiana, che è tornato a crescere rispetto all'anno scorso e che raggiunge i 3,3 miliardi di euro. Solo nel Lazio operano 140 aziende con un fatturato di 115 milioni di euro. Il sistema mare è una parte non trascurabile dell'economia nazionale. Nel sistema mare c'è turismo, c'è la nautica, c'è la pesca, sono tutte componenti vitali importanti. Quindi io mi aspetto da questo salone, anche un contributo utile per un rilancio di tutte queste componenti del nostro sistema economico.